Eventi internazionali come in questo caso del concorso internazionale sui vini di Malvasia a livello mondiale sono molto importanti. Faccio un semplice riferimento. Giorni fa è finito il Vin Italy, un evento internazionale di grande importanza con molti vini a concorso. Ma perché questi concorsi sono importanti? Anche perché sono appoggiati da un'organizzazione internazionale quale è il Vin Italy, un'organizzazione per la gruppa 45 paesi del mondo. Sono eventi di estrema importanza proprio perché servono a comunicare a un consumatore, all'opinione pubblica. Ci sono delle imprese, degli imprenditori che lavorano per portare dei vini di grande livello e di qualità. Per cui ce ne sono tante in mondo, a livello europeo, possiamo considerare che c'è un concorso internazionale di Belgio, di Bruxelles, ce ne sono a Londra, ce ne sono in Russia, ce ne sono a Milano, ce ne sono in tutte le parti del mondo. Ma è molto importante che la Croazia abbia cominciato a fare questo concorso internazionale. Siamo alla seconda edizione, ma una seconda edizione riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Vita del Vino. Esattamente per raggiungere questo traguardo bisogna che ci sia stato un lavoro alle spalle che ha portato ad allenare gli organizzatori e nello stesso tempo poi per avere il patrocinio dell'OIV. Per cui sono eventi molto importanti che servono proprio per dare le imprese che devono produrre perché non per andare al concorso, ma che hanno i vini che meritano poi di partecipare al concorso e il consumatore intattanto deve essere informato di questi eventi. Proprio perché è un sistema per dire che un vino è stato analizzato, è stato giudicato e se poi l'impresa ha anche una medaglia maggiore valore più che può acquisire questo vino. Grazie. Grazie. Grazie.